Non segnano tutti quanto ne siamo capaci noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci sturna in tentazione, ma liberaci dal male. Signore benedici noi, benedici i nostri amici animali a quattro zampe, benedici la comunione e la bellezza che ci fa stare insieme e benedici il conforto e il sostegno della loro compagnia. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, profite il nostro Signore. Amen. Bene, grazie e buona prescrizione. Grazie. Grazie.